Good morning, si, qui sono praticamente le 11 e mezza, ecco ripeto in questi casi certo una mattina prestissimo, una mattinata inoltre, ma comunque mattina Mr. Master, maestro, oh semplicemente, oh semplicemente David Lynch, it's June 4, 2022, and it's Saturday, here in Naples, clear middle morning, this morning, and it's still an hour, it's 7 and 8, finally, it's 31, 6, and this means that it's a day, really, 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 really soft, like in the days, in this period, it's also over, because it seems more summer, climate, spring, climate, in altra parte, stiamo andando verso l'estate, 21 giugno, tra meno di 20 giorni, quindi questo è anche normale, as I regard the video, too, so don't know if I do it, but in a case, if I do it, it's always separate from this, so if you're interested, eyes open, anyway, I see and you will just see from the window, anzi, poiché, you can't see anything from the window, come sapete, essendo è stato, noi apriamo la tenda e mettiamo la mostra all the shutter, as you can see from the sunglasses, sono un po' più visibile, I think that it's a further noon, the temporary potrebbe ancora salire, in effetti, ma ovviamente c'è male e maghi su questo, but really important thing, this atmosphere in a negative point is that today for me, we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, cioè, sembra che ci sono in questo momento, ma ci sono anche delle nuvole che coprono, di passaggio, che in realtà, secondo me, sono il presagio che oggi potrebbe essere più nuvoloso che con questo sole e questo cielo, per cui non mi fido, però devo dire che i primi tre giorni abbiamo avuto sempre lo spirito di blue skies and golden sunshine, io penso che comunque sono un presagio il fatto che sarà come maggio, che li abbiamo avuti praticamente quasi sempre e anche giugno sarà così, per cui, comunque, domani credo sarà totalmente sempre col sole e il cielo, per cui, say that it's all from the mythical wind, quindi di orange, red, blue, green, water, curtain, bn, me, and it's, green, red, shooter, new, indies, days, and quasi tutta l'estate sarà così, and finally from the mythical keyboard, amani gx 640, ipg 625 Eva, great day, more people, fallevo 10 anni da riporsi, un saluto davvero a tutti, and also, I hope you will ever create a breakfast, ve la farò tra poco, il mio sommato che ho pronto, non so se lo sentite, ma soprattutto, spero possiate consolarvi se il tempo deve essere brutto, un po' come qui alle vostre parti, non che non ci consentiamo sempre, non facciamo colazione, anzi, tra l'altro, la curiosità è che le due parole in italiano, consolazione e colazione fanno anche rima, ma, appunto, io, nel tempo brutto, personalmente, mi consola ancora di più, I'll see you nei video tutti, if I'll do it or tomorrow.